ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi propongo un video haul per quanto riguarda makeup questo video riguarda acquisti fatti per il black friday che non vi ho potuto girare perché sapete tutti che sono stata male quindi non ho fatto video ma questo video riguarda gli acquisti fatti da nabla io ho fatto l'ordine subito quando hanno messo i saldi al 40 per cento ho fatto un bellissimo ordine e ho preso un bel po di cosucce sono arrivate con questa velina viola e questa cartolina questa qui una cartolina semplice e questo era tutto il mio ordine io ho fatto un bellissimo ordine dove ho preso tante cose una di queste cose mi è arrivata rotta non potete capire quando ho aperto perché è stata l'ultima cosa che ho aperto quando ho visto questa palettina rotta mi sono sentita male perché mi è dispiaciuto tantissimo io ci tenevo tantissimo al pacco e tutto e quindi averla vista in queste condizioni ci sono rimasta veramente malissimo ho mandato subito l'email per quanto riguarda nabla vi faccio vedere la palettina ovviamente hanno voluto non so se si vede tutti i granellini del dell'illuminante qua dentro qua si vede meglio vedete questi sono tutti gli illuminanti c'è la polvere dell'illuminante la aprirò pianissimo perché è tutta frantumata c'è una cialdina è tutta frantumata questa è infatti sta accadendo ancora questa è la palettina aspettate che la apro e questo è l'ombretto frantumato questo qua rosa ed è tutto frantumato io adesso la chiudo perché ho paura già che mi sto sporcando tutta apposto quando ho ricevuto questa palettina subito inviato sia le foto che l'email a nabla hanno subito mi hanno subito contattata scusate ma mi devo pulire mi hanno subito contattata dicendomi che mi avrebbero rimborsato eccetera eccetera io sinceramente gli ho anche detto a me non interessa il rimborso io voglio la palettina che avevo ordinato loro mi hanno gentilmente risposto mi hanno detto che potevo riprendere la palettina con lo sconto come avevo già fatto anzi io non avevo proprio capito cosa dovevo fare quindi ho aspettato più di una settimana loro mi hanno ricontattato dicendo ma signora cosa vuole fare cioè mi è piaciuta tantissimo questa cosa perché io aspettavo una sua una loro email invece loro aspettavano che io facessi di nuovo l'ordine infatti quando mi ha contattato il ragazzo al telefono mi ha detto guardi signora che nelle mail c'è anche scritto quello che lei deve fare mettere un codice per riavere di nuovo la palettina e quindi quel ragazzo mi ha anche aiutato a fare l'ordine e io ho ripreso la palettina che ovviamente mi è arrivata intatta questa è la palettina come vedete questa è la parte così e questa è la parte dietro come vedete non c'è tutto il tutte queste cose rosse perché ovviamente questa palettina è intatta è intatta e fortunatamente devo dire quando l'ho aperto ho avuto il batticuore perché ho detto no ti prego due rotta no e quindi che dirvi sono stati veramente molto molto gentili veramente lo devo dire cioè potete dire la qualunque cosa ma sono stati veramente molto gentili mi hanno cambiato la palettina e me ne hanno portato un ovviamente nuova questa è la palettina olografica e molto molto bella ha uno specchio qui abbastanza grande scusate se vi acceco e questi sono i tre illuminanti ve lo faccio vedere così questi sono i tre illuminanti sono uno più bello dell'altra allora il fatto che quello si è rotto vi fa a vedere anche il fatto che questo non so se si nota questo ha delle crepature proprio qua nella parte di sopra delle crepature quindi credo che sia un fatto dell'illuminante vi dico i nomi che sono super mamma elisir e reborn che sarebbe questo comunque poi vi farò ogni swatch oppure la vedrete utilizzata in qualche video tutorial perché ho fatto quest'ordine ho fatto quest'ordine perché volevo assolutamente la primi due ovviamente avendo la prima non poteva non prendere la seconda io adoro gli ombretti della nable quindi l'ho voluto prendere il packaging esterno e questo ed è molto molto bello e vi faccio vedere la palettina che io adoro i colori mi piacciono tantissimo questa è la soft touch proprio come la palettina poi abbiamo uno specchio abbastanza grande e qui abbiamo tutti gli ombretti che sono questi qua questi sono gli ombretti della palettina devo dire che mi piacciono mi piacciono proprio questi colori e non vedo l'ora di utilizzarla e anche questa vedrete sicuramente dei tutorial sul mio canale quindi rimanete sintonizzati perché vedrete sicuramente questi prodotti utilizzati ovviamente non potevo non prendere visto che ve ne sto parlando in tutte le salse non potevo non prendere un altro di questi set di pennelli sapete tutti che io li sto utilizzando tantissimo e quindi ho preso un altro dei set di pennelli questi qua di nable io ho utilizzato per questo makeup ho utilizzato i pennelli e sono questi identici perché ho preso lo stesso identico set per la seconda volta perché mi è piaciuto tantissimo i pennelli sono fantastici e quindi li ho voluti prendere e ho preso questo poi ovviamente che fai non prendi tutti gli altri pennelli ovvio che li prendi e quindi ho preso anche gli altri pennelli ho preso tre per quanto riguarda una collezione se non mi sbaglio era non c'è scritto qual era comunque ve li faccio vedere sono tutti sporchi perché è caduto tutto il illuminante rosa allora questo è il pennello per quanto riguarda il fondo tinta infatti c'è scritto brush 07 foundation buffer brush ed è questo ovviamente deve essere lavato quindi dovrà prendere la sua forma ero curiosa di vedere com'era questo pennello e quindi l'ho voluto prendere li devo lavare quindi non vi so dire l'odore non fa puzza non fa niente quindi vediamo poi come mi ci troverò vi faccio vedere il manico che color nude questo e poi questo tipo sembra tipo metallo comunque questo è per quanto riguarda il fondo tinta poi andiamo avanti e vi faccio vedere questo che per quanto riguarda la cipria questo è precision powder brush ed è lo 08 e questo qua mi interessava per il fatto di mettere la cipria proprio sotto l'occhio dove l'apertura perché l'opera di il pennello che molti utilizzano per mettere la cipria proprio per quanto riguarda questa parte qua e quindi lo volevo prendere o tipo un pennello a fiamma con questa punta ed è proprio adatta per mettere il permettere la cipria devo dire che mi piace anche questo e quindi vediamo come si comporterà l'ultimo invece quello per mettere credo la cipria sì è quello grande per mettere la cipria su tutto l'occhio ed è questo che è abbastanza grande ovviamente ha dei peli un po' spellacchiato ma credo che sia per il fatto che hanno queste custodie lo devo utilizzare ce lo devo lavare per vedere come viene e questo è per quanto riguarda la cipria su tutto il viso quindi questi li proverò e vi farò sapere gli altri due che ho preso sono quelli dell'edizione sono mi sbaglio precedente e ho preso un altro questo si chiama bonnie mine brush bonnie anzi bonnie scusate bonnie e credo che sia adatto o non lo so ha sempre la cipria o al blush devo vedere perché non lo so ma io ho delle difficoltà a utilizzare altri pennelli di blush che non sia quello della real techniques mi devo abituare a utilizzare altri tipi comunque questa differenza dell'altro è fatto così questo pennello ed è fatto così le setole vedete sono un po diverse ed è sempre tipo leggermente a fiamma lo utilizzerò ovviamente vi farò sapere l'ultimo che ho preso perché mi manca quello dell'illuminante ma non c'era quando ho fatto l'ordine sold out ed è lo chic shape ed è questo proprio a fiamma e questo io lo voglio utilizzare per mettere il la terra per fare il contouring perché essendo a fiamma credo che mi venga un contouring abbastanza leggero anche questo ha la stessa forma dell'altro vedete la stessa forma nel senso lo stesso packaging scusate però queste a fiamme io credo che sia ottimo per quanto riguarda proprio questa parte poi le ultime due cose che ho preso sono una matita matita nera perché sono in cerca della matita nera che mi scriva dentro l'occhio perché niente assolutamente le matite a me non durano niente e poi ho preso un brimi per quanto riguarda le labbra ho preso la velvet time che è nera ovviamente come vi ho detto aspettate che apro ufficialmente il televoto state guardando grande fratello vip io poca niente sinceramente vabbè io guardo poca televisione quindi non mi considerate a me io guardo più i video su youtube che la televisione allora questa è la matita questa qua è la matita e vi faccio vedere il tratto è abbastanza nera se questa è il colore e adesso vediamo la dreamy questo è my rule s è stato l'unico che mi piaceva sinceramente questo liquido di lipstick rossetto liquido eccetera eccetera e il packaging è così proprio come la palettina tutto è il colore ovviamente non poteva che non essere malva questo è il pennellino l'applicatore scusate e questo è il colore ovviamente non poteva che non essere un malva ed è questo colore qua molto molto bello ovviamente lo proverò credo che farò un video proprio dove utilizzerò tutto quindi utilizzerò la palettina l'ombretto la matita nera è ovviamente i bellissime stupendi pennelli io come vi ho detto mi sono trovata bene e ve li consiglio tantissimo questi pennelli perché sono veramente fantastici che dirvi ragazzi spero che il mio video all per quanto riguarda black friday quindi sconti mi sia piaciuto io ringrazio tantissimo nabla per quello che ha fatto nei miei confronti nel senso rimandarmi la palettina che sfortunatamente mi è arrivata rotta e niente che dirvi io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va non ci vediamo al prossimo video ciao ciao